Un caro saluto a tutti, sono il dottore Vincenzo D'Amico e per questa puntata della nostra rubrica di odontoiatria ci occuperemo di una tematica spesso sottovalutata ma che mi sta molto a cuore, il trattamento del paziente oncologico. Il paziente che ha avuto una infausa diagnosi di patologia tumorale si trova spesso in balia degli eventi, dà quindi priorità a quello che è più prettamente oncologico, quindi la chemio, la radio, la chirurgia per l'eliminazione del tumore, che ha tutto il resto. Ricordiamo che un paziente che subisce tali trattamenti è comunque un paziente che andrà incontro alla perdita del suo sistema immunitario e quindi delle sue difese immunitarie. Ricordiamo che un paziente che subisce trattamenti radioterapici e soprattutto chemioterapici è un paziente che andrà incontro ad una deplezione, quindi ad un abbassamento del suo sistema immunitario. Tutto ciò può manifestarsi a livello clinico generale con la suscettibilità alle infezioni e quindi bronchiti, polmoniti, problemi di coagulazione, ma si riscontra nel 99-100% dei casi a livello orale con grossissime perdite di tessuto osseo, quindi delle piorree molto aggressivi, delle parodontiti, per utilizzare il termine adeguato, molto aggressive e con delle candidosi che riguardano tutto l'apparato digerente, in primis la bocca, perché la bocca altro non è che non il primo step dell'apparato digerente che impediranno al paziente, renderanno molto dolorosa la masticazione e la deglutizione. Il paziente quindi andrà incontro, quadro classico, ad una disidratazione e ad una perdita di peso importante durante i trattamenti. Il controllo che viene spesso sottovalutato, i malati oncologici non si rivolgono mai dal dentista se non in casi estremi con il classico dolor di denti. Dicevo, il paziente oncologico se monitorato con cadenza mensile o bimestrale, anche gratuita, perché non dimentichiamoci che un paziente oncologico è una persona che si ritrova catapultata in un mondo che non è il suo, con un notevole dispendio economico, potrebbe avere notevoli notevoli vantaggi. Intercettare innanzitutto le gengiviti prima che diventino parodontiti, quindi l'accumulo di placca e di tartaro, che è tipico delle persone ospedalizzate. Immaginiamo un paziente che subisce un intervento chirurgico l'igiene orale, la pulizia dei suoi denti non è tra le priorità, quindi pazienti che rimangono a letto anche per mesi non hanno un igiene orale sicuramente maniacale. Ecco che l'odontoiatra, che in alcuni casi potrebbe anche andare al domicilio della persona, quindi fare anche assistenza domiciliare, sempre supportato dall'importante e fondamentale figura dell'igienista, riuscirà a mantenere una corretta igiene orale al paziente evitandogli spiacevoli problemi. Non dimentichiamo che in un paziente immunodepresso con problemi di coagulazione, il sanguinamento gengivale, la suscettibilità alle infezioni a livello gengivale possono portare a problemi ben più gravi, non ultima una possibile setticemia. Inoltre, se l'odontoiatra, se il professionista riesce a riconoscere in tempo la candidosi orale, con l'utilizzo di farmaci antimicotici, di farmaci protettori, il paziente riuscirà a bere e mangiare correttamente. Tutto ciò non lo porterà, o lo porterà molto più difficilmente, alla classica intossicazione da chemioradioterapia. Immaginatevi di essere nella condizione di non riuscire a bere neanche un bicchiere d'acqua. L'impossibilità di bere vi porta a evitare di farlo. L'organismo non ha più la possibilità di smaltire le scorie tossiche, quindi queste si accumulano, vanno in circolazione nel sangue, ed ecco che la classica intossicazione da chemioterapia ha il suo decorso, che è poi quello del ricovero del paziente, della sospensione di ogni trattamento e della perdita di ulteriori mesi, oltre che dell'aggressività sull'organismo, quindi il sistema immunitario già distrutto, subisce un ulteriore stress e quindi non ultima anche la possibilità di avere un'accelerazione della patologia oncologica. Tutto ciò sembra raro, invece è un evento che avviene quasi sempre. Se qualche amico all'ascolto ha avuto problemi oncologici o ha avuto in famiglia un paziente con problemi oncologici, sa benissimo di che cosa sto parlando. Quindi non sottovalutare mai l'importanza del controllo periodico dal dentista, che non deve essere più a sei mesi, come nel classico richiamo periodico, ma sarà mensile o bimestrale. Tutto ciò ci aiuterà nel sopportare il paziente nel suo viaggio di guarigione e nel aiutarlo a vivere il periodo dei trattamenti e delle terapie nel migliore dei modi, con una corretta alimentazione e con una corretta idratazione. L'altra procedura importante che è a nostro carico è quella della bonifica pre-intervento o della bonifica pre-terapie. In alcuni casi, quando ci troviamo davanti a delle metastasi osse, vengono utilizzati dei chemioterapici particolari definiti bifosfonati. La loro azione è quella di impedire il riassorbimento dell'osso, andando ad inibire l'azione degli osteoclasti, quindi le cellule che sono addette a mangiare, e favorire l'azione degli osteoblasti, quindi le cellule che sono addette a creare nuovo osso. Tuttavia, una persona con infezioni all'interno della bocca, che quindi non ha fatto una bonifica, cioè non ha eliminato i denti con mobilità, non ha eliminato le infezioni sui denti e sulle gengive, potrebbe avere dei problemi molto molto gravi. Il problema più grave correlato all'assunzione dei bifosfonati è la osteonecrosi dell'osso. Per osteonecrosi dell'osso intendiamo la decomposizione dell'osso che parte da una semplice infezione, che può essere anche una semplice gengivite o una tasca parodontale, quindi una sacca tra la gengiva e il dente. Questa infezione si propaga, l'osso si evidenzia, infatti in un paziente con problemi del genere, all'apertura della bocca, noi vediamo l'osso scoperto dalla gengiva in bocca. L'intervento di risoluzione è anch'esso molto demolitivo, poiché bisognerà andare a fare una resezione a blocco dell'osso incriminato e sperare che la cicatrizzazione avvenga nel migliore dei modi. In alcuni casi, dopo l'intervento, può esserci una recidiva, quindi può andare in necrosi anche l'osso che noi abbiamo tagliato a livello ambulatoriale e si finisce poi in sala operatoria dal maxillo facciale, che non sempre può risolvere il problema. In alcuni casi addirittura è purtroppo necessario, se si parla della mandibola, l'estirpazione totale della mandibola, la mandibulectomia. Quindi immaginate quali conseguenze gravi possano esserci nel sottovalutare semplicemente una bonifica, quindi un controllo odontoiatrico pre-assunzione di farmaci o pre-operatorio. È importante quindi rivolgersi al dentista, allo specialista, sia prima di cominciare i trattamenti chemioterapici, sia durante i trattamenti, sia dopo, perché un organismo chemioterapizzato ci metterà anni, quindi avrà bisogno di molto, molto tempo prima di recuperare al pieno la sua funzionalità, quindi la funzionalità del sistema immunitario. In questo periodo egli sarà suscettibile alle infezioni, sarà suscettibile alle perdite di attacco, alle perdite di osso e quindi nel nostro settore sarà suscettibile alla perdita dei denti e alle candidosi, alle ulcere e a tutte le problematiche correlate al cavo orale. Con questa carrellata breve e spero esaustiva sul trattamento del paziente oncologico e su quanto sia un po' importante il monitoraggio dell'odontoiatra durante il periodo dei trattamenti chemioterapici, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.